Buonasera a tutti, buonasera Ivan, eccoci qui, siamo alla vigilia del primo giorno di riposo, finalmente ne avevano bisogno tutti, i corridori ovviamente per primi. Oggi un'altra bella tappa in cui l'Aero Cometa ha lasciato il segno con la fuga di giornata in cui è stato protagonista il nostro Samuele Rivi e poi questa volata di Vincenzo Albanese con un ottavo posto che è assolutamente molto 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 bello. Ivan come l'hai letta questa tappa? Buonasera anche da parte mia, ho letto questa tappa ancora come una tappa corsa da protagonisti, i ragazzi sono stati molto bravi, la fuga di giornata è stata una fuga nuovamente andata via di forza dopo la tappa di ieri, Samuele è stato molto bravo, è giovane ma ha la capacità di leggere bene la corsa, era uno dei tre uomini che avevamo immaginato nella fuga del giorno perché poi come sempre abbiamo pensato un po' anche alla strategia delle altre squadre, abbiamo immaginato che la Bora potesse fare quest'azione, volevamo avere un uomo di copertura davanti e Albanese ben pilotato da Gavazzi ha fatto ancora qualcosa di eccezionale, Albanese va forte ormai da marzo, sta facendo una stagione eccezionale, non ha ancora vinto ma vincerà presto e devo dire che è un corridore che mi sta piacendo molto e non solo a me, piace molto anche i suoi compagni perché è un ragazzo che merita, è un ragazzo che si fa trovare pronto quando deve essere pronto e quindi arriviamo al primo giorno di riposo con un bilancio a mio modo di vedere positivo, come sempre io non sono mai contento ma fa parte della mia deformazione professionale quindi spingerò a tutta perché sono convinto che i ragazzi hanno sia le gambe che la testa per poter ottenere ancora di più in questa seconda parte del giro che ci aspetta, la seconda parte del giro d'Italia è sempre la più difficile non solo perché siamo ovviamente con più chilometri nelle gambe, è più difficile perché ci vuole più testa, è più difficile perché ti svegli al mattino con tanto mal di gambe, è più difficile perché vai alla partenza e devi correre con uno spirito aggressivo, devi aggredire la tappa, devi aggredire la partenza, i primi chilometri sono i più difficili fino a quando la corsa prende una forma precisa ci saranno spesso nelle prossime tappe due corse, una corsa nella corsa, la corsa per la maglia rosa, la corsa per la tappa quindi dovrebbero essere molto bravi anche noi a leggere bene quello che capiterà il giorno prima per il giorno dopo perché solitamente è questa poi la bravura dei tecnici è quella di leggere con un giorno d'anticipo quello che capiterà poi nella tappa che deve arrivare Sì, poi tu hai citato albanese, parlare di singoli non è mai bellissimo però ci sono tanti bei segnali in questa squadra che ogni giorno si rincorrono, insomma c'è Ravasi che sta ogni giorno trovando fiducia e poi c'è questo fortunato che insomma in pochi se lo aspettavano così Io devo dire che la squadra, proprio come hai detto per non fare nessuna differenza perché quando parli di squadra le individualità sono state tutte, ognuno nel suo livello hanno espresso il meglio delle loro potenzialità per alcuni il bello deve arrivare io ho delle convinzioni nella mia testa e ne parlo direttamente ovviamente con il corridore interessato io sono convinto che abbiamo degli atleti che ci stupiranno nelle prossime due settimane bisogna mantenere la calma, bisogna essere capaci di gestire anche le giornate difficili che arriveranno ma credo che la fotografia dell'Elo Cometa di questi primi dieci giorni è stata quella di dare un significato al nostro giro di avere un'identità di dare una presenza costante in corsa davanti e anche nel gruppo siamo stati protagonisti nella prima parte della tappa, nella tappa centrale e siamo stati protagonisti anche nel finale per ottenere risultato con un altro atleta quindi devo dire che da un punto di vista tecnico, tattico e di gestione del team io sono molto contento in questa seconda parte voglio ancora di più ma non perché non siamo mai contenti voglio molto di più perché sono convinto che i ragazzi hanno nelle gambe ancora di più rispetto a quello che hanno espresso fino a questo momento quindi il mio compito è quello di tirare fuori tutto il potenziale che c'è dentro nelle gambe, nella testa e nel cuore dei nostri corridori devo dire che finora ci siete riusciti insieme a uno staff che io lo vedo tutti i giorni sta lavorando come una macchina perfetta e quello che poi si vede in corsa è frutto anche di questo lavoro che da fuori non si vede però vi assicuro che si sente i risultati ottenuti in questo Giro d'Italia partono dal mese di novembre partono dai ritiri invernali abbiamo fatto circa 60 giorni di ritiro tra ritiri invernali e ritiri in altura abbiamo fatto quasi 60 giorni di corsa abbiamo avuto anche degli infortuni importanti che hanno compromesso la prima parte e poi uno staff che la squadra sono circa 60 persone se tenete conto che 20 sono i corridori 40 sono le persone che ruotano attorno al gruppo sportivo e ognuno nel suo compito e ognuno ha una parte di merito per essere al Giro d'Italia e essere soprattutto protagonisti al Giro d'Italia e essere protagonisti da qui alla fine del Giro d'Italia bene, allora domani giorno di riposo però ci sentiamo lo stesso domani sera il giorno di riposo è importantissimo i corridori devono fare tre cose essenzialmente riposare, riposare e riposare solo l'unico momento che si devono alzare dal letto è per mangiare e per andare a fare un piccolo giro in bici giusto per sgranchire le gambe perché dal giorno dopo si riparte a pieno regime e lo staff ovviamente ha la possibilità di avere una giornata un po' più tranquilla rispetto alle 14-15 ore al giorno di lavoro quotidiane del Giro d'Italia bene, allora riposiamo anche noi domani grazie a tutti buonanotte